la chiusura dell'evento l'abbiamo fatta con the witcher 3 ora voi aspetterete grandi cose e anche noi un pochino ce l'aspettavamo ma in realtà era abbastanza evidente che i cd project avevano la bocca cucita all'evento di nanko non volevano rilasciare grosse informazioni non volevano svelare nulla non hanno portato nuovo gameplay hanno praticamente analizzato un trailer e analizzato il motore grafico del gioco spiegando tante belle cose per chi appunto apprezza questi tecnicismi ma poco o niente del gioco abbiamo fatto un'intervista con gli sviluppatori producer del gioco che erano appunto lì abbastanza controvoglia ma hanno risposto un po generalizzando in giro abbiamo chiesto qualche info sul gameplay abbiamo chiesto qualche info sui nuovi sistemi non si sono aperti particolarmente ma un pochino almeno hanno risposto quindi se riuscite a trovare degli sprazi di informazioni qua e la nella nostra intervista siete i benvenuti per quanto ci riguarda noi siamo sempre molto ai patti per il gioco lo attendiamo tantissimo perché siamo quasi sicuri che sarà un titolo titanico e di qualità altissima però a vedere CD Projekt passare dall'ambiente casereccio quasi e amichevole di quando era una piccola compagnia a questa specie di nuova visione da grosso team di sviluppo dove tutto va tenuto segreto dove tutto va tenuto bloccato un po ci dispiace anche perché si vedevano proprio gli sviluppatori veri e propri del gioco che un po faticavano a tenere la bocca chiusa perché volevano parlare di quello che stavano facendo probabilmente convinti della qualità del loro titolo un peccato ma è il mondo va così ok ho notato che avete la bocca cucita oggi quindi a cosa che potete rispondere prova a chiedere vediamo come va risponderemo più o meno a tutto tranne che sugli unicorni ci sono gli unicorni nel gioco no comment ottimo allora partiamo dalla struttura visto che è cambiato molto dal predecessore ora è un open world con una mappa enorme come avete mantenuto i contenuti divertenti e variegati in questa nuova struttura immagino sarebbe facile dire abbiamo fatto di più e meglio ma essenzialmente quello che abbiamo fatto è stato prendere quelle aree estese in the witcher 2 dove c'erano conflitti locali e problemi che il giocatore doveva affrontare ed espanderle su larga scala quindi troverai un grandissimo numero di locazioni visitabili nel mondo e ognuna conterrà qualche sorta di avventura le scale delle avventure saranno diverse ma in ognuna abbiamo cercato di inserire qualche sorpresa speciale ci siamo ispirati molto parlando di aree come no man's land anche alla mitologia slava cosa puoi dirmi delle scelte in the witcher 2 cambiavano completamente intere fasi della campagna saranno altrettanto significative in un open world è difficile comparare il gioco the witcher 2 in questo campo dove si potevano escludere grossi pezzi di storia con alcune scelte non significa però che le scelte non importano più in verità è l'esatto contrario vedrai le tue scelte influenzare l'ambiente circostante e vista la libertà di esplorazione proverai anche un senso di progressione tornando in luoghi già visitati fai qualcosa e quel qualcosa trasforma un luogo dove sei già stato e osservi le conseguenze delle tue scelte una volta tornato lì quindi la scelta è ancora essenziale e abbiamo cercato di fondere il peso delle conseguenze con un gameplay open world cosa possiamo aspettarci dal punto di vista del gameplay più manovre di combattimento un nuovo sistema di magie in pratica stiamo raffinando notevolmente il sistema di combattimento vogliamo davvero far provare al giocatore la sensazione di utilizzare un maestro spadaccino come Geralt per questo motivo abbiamo implementato oltre 96 sequenze animate in battaglia e sono tutte molto spettacolari fanno sembrare il combattimento davvero fluido ma stiamo anche sfruttando il contrasto per rendere più spettacolari le cose abbiamo infatti dato ai nemici uno stile di combattimento medievale e Geralt in quanto mutante è molto più veloce dei normali avversari umani tutto ciò insieme ai controlli migliorati garantisce scontri fluidi se parliamo di tattica invece ora abbiamo diversi tipi di segni rispetto a The Witcher 2 come ad esempio la possibilità di usare la hard a 360 gradi qualche info sul sistema alchemico certo stiamo raffinando anche quella prendendo elementi da The Witcher 2 piaciuti ai giocatori e novità varie ad esempio ora si possono attivare le pozioni durante il combattimento dopo averle consumate in precedenza usando il metabolismo superiore di Geralt questo offre più flessibilità al giocatore permettendogli di non sprecare risorse come è cambiata la vita CD project dopo il gran successo di The Witcher 2 siete pur sempre passati da una piccola software house a una grande azienda in pochi anni beh più che per il successo in realtà uno dei cambiamenti riguarda la possibilità e la necessità di rilasciare i titoli in simultanea su tutte le piattaforme ed è dovuto più all'aumento della base dei nostri giocatori che ad altro questo ci ha portato nuove sfide da superare e svariati vantaggi legati al Red Engine 3 che può supportare facilmente il porting no porting è una pessima parola diciamo il lavoro sul gioco su tre diverse piattaforme ma sì il cambiamento maggiore è questo è un'esercizio è un'esercizio